Roberto Pignotti, tesore della Samba, siamo a consuntivo di una stagione vittoriosa, qual è la sintesi di quest'anno dal punto di vista oltre che sportivo anche tecnico e finanziario? Sicuramente era un esito felice, positivo alla fine. Dicevo prima in conferenza stampa, siamo partiti un anno fa, insomma, il 6 o l'8, stavamo a Lecco, ci venivano le lacrime. Siamo ripartiti, siamo ripartiti tra mille difficoltà, tra mille problematiche, abbiamo creato una società tifosa, perché principalmente è una società tifosa, ma è una società che comunque non vuole fare il passo più lungo della gamba, vuole fare le cose fatte bene, vuole salire in alto, ma vuole salire con solidità, non vuole salire, avventurarsi in qualcosa che poi a distanza di 3 o 4 anni possa succedere, abbiamo storia di quello che è successo. Come a livello tecnico e sportivo, appunto, il risultato ci ha dato ragione, fortunatamente abbiamo vinto il campionato. A livello finanziario, ad oggi, in questo momento, noi abbiamo provveduto al pagamento di tutti i compensi per i calciatori della prima squadra, e tutto lo staff tecnico, così come oggi pomeriggio abbiamo provveduto al pagamento per quanto riguarda tutto lo staff del settore giovanile. Per quanto riguarda l'anno che sta per cominciare, oggi è stata presentata la campagna abbonamenti e il piano marketing della SAM, quali sono i vostri obiettivi al riguardo? L'obiettivo principale è quello che più abbonamenti facciamo e meglio è, insomma. Noi continuiamo a fare appelli alla società, ma un appello che non deve essere visto, ripetisco, come una cosa che uno sta a cercare, la carità sta a cercare. No, io vorrei che questo fosse visto, questi appelli fossero visti come in un senso di aiuto per crescere, perché, ripeto, secondo me questa è una società che in C2 ci arriva, ci arriva tranquillamente e può fare anche una buona C2, però con maggior aiuto delle forze imprenditoriali di San Benedetto, e ce ne sono che potrebbero darci una mano, io credo che potremmo accorciare i tempi. Non deve essere vista così, cioè questi dicono sempre questo, no, no, vedetela sotto un lato di crescita di tutta la città sportiva di San Benedetto. Abbiamo fatto uno sforzo, ritengo, abbiamo avuto un'idea e uno sforzo non indifferente per cercare di creare questa struttura dello stadio al quale non tutti all'inizio ci credevano, forse eravamo 4-5 che ci abbiamo creduto fino alla fine, fino a che non l'abbiamo ottenuto ci siamo dati da fare. Che venga vista questa richiesta come un aiuto a crescere nel più breve tempo possibile. Riguardo proprio lo stadio, ci sono forse dei tempi che sono leggermente allungati rispetto alle previsioni. Quando dovrebbero cominciare i lavori e quindi quando dovrebbe essere disponibile lo stadio e perché c'è stato questo leggero ritardo, si parlava dell'inizio di giugno inizialmente? Sì, noi puntevamo veramente per iniziare i lavori il 10 giugno. Il 10 giugno però non è possibile, non è possibile ma non perché ci sia qualcosa con l'amministrazione al quale invece va il ringraziamento della società US San Mettese a questa amministrazione che ci è stata vicino, ci ha spronato sempre, ci ha dato sempre ogni possibilità di dialogo per cercare di raggiungere questo obiettivo dopo che abbiamo dimostrato noi comunque chi siamo e quello che volevamo fare. Dove ci si è adesso sono degli intoppi burocratici, che è la burocrazia che purtroppo ci sta bloccando in determinate situazioni. Non abbiamo ancora, c'è la convenzione, il Consiglio Comunale l'ha approvata l'altra volta la concessione ventennale, l'ha approvata, è stato tutti raggiunto gli accordi, tutti fatti i contratti con le ditte che quindi possono iniziare tranquillamente i lavori. Purtroppo non abbiamo ancora firmato materialmente la convenzione perché? Perché la burocrazia comunale deve sottostare a certi passaggi. Io onestamente non so quali possono essere questi passaggi. Ci avevano detto che la potevamo firmare stamattina, martedì. Adesso non ci ha chiamato nessuno, pensiamo che per giovedì o venerdì possa essere raggiunto questo. Dopodiché possiamo iniziare, presentiamo la dia, si chiama, l'inizio dei lavori e poi possiamo iniziare. Questa è una mia opinione, assolutamente non supportata da nessun fatto. Una mia convenzione personale, cioè noi qua prima di fine giugno, prima di luglio i lavori non si iniziano. Dai nostri calcoli, dai nostri valutazioni, tre mesi di lavoro perché qui ci saranno aziende che lavoreranno a turno continuo, 8, 16, 24. Quindi dovremmo per fine settembre di raggiungerli. Però certo, sicuramente i tifosi qualche fastidio se lo troveranno. Cioè nel senso che due o tre partite fuori casa purtroppo toccherà fare. Purtroppo qualcosa dobbiamo patire. Grazie.